La vicenda personale di Berlusconi deve restare slegata dalle sorti del governo. Il cupio di Solvi non porta da nessuna parte. Da Malta Enrico Letta rispedisce al mittente l'ultimatum del leader PDL che ha ufficialmente legato la fiducia al governo al voto sulla sua decadenza. Sono sereno e fiducioso, resto fermo sulla fiducia del 2 ottobre che era giusto chiedere e che mi è stata data. Ma Letta sa anche che prima del passaggio decisivo sulla decadenza di Berlusconi in Senato ci sarà il voto sulla legge di stabilità che è pieno di insidie e pericoli per il suo governo. Lavoro per fare sì che la legge di stabilità sia migliorata in Senato e si porti a compimento un percorso fino al 2014 per raggiungere l'obiettivo per cui voglio essere giudicato. Quello che si può dare oggi è soltanto un giudizio di metà strada. Giudicatemi a fine 2014. Queste le parole d'ordine del Premier il cui obiettivo è guidare il governo durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea e promette la nostra presidenza poggerà sulla crescita. Oggi a livello europeo serve una strategia con una legislatura procrescita dopo l'epilogo di quella sulla austerità. Una risposta indiretta alla sua candidatura alle primarie per la premiership avanzata ieri ad Epifani Letta parla alla Valletta dove si trova per un vertice sull'immigrazione con il Premier maltese. Il Premier ha detto che bisogna salvare i migranti ma serve un messaggio anche ai trafficanti. Il Mediterraneo non può essere un mare di morti ma deve essere un mare di vita e di scambi. Non possiamo limitarci alle parole. Serve una nuova politica europea verso l'Africa ed il Medio Oriente ha aggiunto. Ma molte delle domande sono riservate alla politica italiana Letta affronta il nodo della legge elettorale. Il governo è disposto per una soluzione ma senza creare un cortocircuito istituzionale ed è pronto a varare un decreto per la riforma della legge elettorale per eliminare il male assoluto che è il porcellum. ma solo su eventuale sollecitazione del Parlamento.